Salve, buongiorno a tutti. Faccio questo video perché vorrei ringraziare tantissimo il maestro Andrea perché mi ha soddisfatto per il suo corso di pasticceria lievitata e a breve ho comprato anche l'altro corso di pasticceria da forno perché è molto completo e molto tecnico e ti spiega tutte le cose abbastanza bene e consiglio a tutti di acquistarlo perché è un bellissimo corso dove ti spiega punto punto tutto quello che c'è da sapere sulla pasticceria è veramente ottimo. A me ha servito tantissimo a migliorare in pasticceria e che posso dire di più, compratelo perché è veramente istruttivo e non ho mai visto un corso così fatto bene. Grazie al maestro, grazie allo staff e buon lavoro a tutti.